Musica Comparto tessile incontro verità al Tribunale di Isernia convocato dal Presidente Di Giacomo Immigrato si barica con uno stagio nel centro di accoglienza arrestato in Molise rifugiati in aumento Le famiglie dei disabili molisani chiedono alla Regione il reintegro dei fondi per l'autosufficienza E la Feder Consumatori a chiedere maggiori investimenti per le infrastrutture in Molise Protestano gli abitanti del quartiere San Lazzaro a Isernia per l'incuria e il degrado dell'area Buongiorno, bentrovati, edizione delle 14 del nostro telegiornale Momento topico quello di questo pomeriggio a Isernia per l'incontro convocato dal Presidente del Tribunale Enzo Di Giacomo Per fare il punto sul comparto tessile alla luce delle prossime scadenze Valutazioni anche sugli effetti dell'area di crisi, vediamo E siamo arrivati a una parola fine per quello che riguarda l'economia del Molise Nel pomeriggio alle ore 16 al Tribunale di Isernia il Presidente dello stesso Tribunale Enzo Di Giacomo Ha convocato le parti istituzionali e anche le parti sociali per la questione del comparto tessile in provincia di Isernia E' un comparto che ha dato tanto nel passato alla economia regionale E' chiaro che oggi si profilano nubi non propriamente buone per l'impianto del comparto tessile L'OTI a fine mese potrebbe chiudere definitivamente i battenti E' chiaro che questo potrebbe dare uno scossone anche a quello che resta dell'ITR E soprattutto delle prospettive future per il sistema ITR E quindi per il sistema del comparto moda in provincia di Isernia Per questo il Presidente del Tribunale di Isernia Enzo Di Giacomo Anche a seguito dell'incontro avuto con il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Codugno Si è fatto promotore di questo incontro e sperando che si possa trovare una possibile strada O possibili strade per tentare altre soluzioni e quindi dare garanzia al comparto tessile Anche per quello che potranno essere le prospettive future Sperando anche a gruppi imprenditoriali interessati al comparto moda molisano E' uno dei comparti importanti In un momento difficile ancora di congiuntura economica per il sistema regionale molisano Ed è chiaro che una strada va intrapresa Potrebbe essere questo, speriamo, almeno uno spiraglio Che apra la porta al sistema economico regionale molisano nella sua intierezza E si possa finalmente porre le basi per una programmazione seria, concreta Di quello che è il settore industria in Molise a partire dal comparto moda Ma non dimenticando quello già avviato dell'agroalimentare nella piana di Venafro Dello zuccherificio di termoli per restare ai grandi impianti E del metalmeccanico nella zona di Venafro Pozzilli Sono punti saldi che hanno dato garanzia alla crescita economica dell'intero territorio molisano Della regione Molise E quindi ci auguriamo che possa uscire quando meno un spiraglio di luce Da questo incontro delle ore 16 di oggi pomeriggio al Tribunale di Isernia Con questo incontro tra le parti istituzionali e sociali Voluto dal Presidente del Tribunale Enzo Di Giacomo E si trova ancora in stato di arresto il giovane migrante Fermato ieri in flaglanza di reato dai carabinieri di Venafro Per aver preso in ostaggio il responsabile della struttura che lo ospitava Si attende ora la pronuncia dell'autorità giudiziaria Ascoltiamo E in attesa dell'interrogatorio di garanzia Il giovane migrante ha seragliatosi ieri nella struttura d'accoglienza di Venafro che lo ospitava E che ha preso in ostaggio il responsabile della struttura stessa Il 30enne di origine nordafricana si trova tuttora agli arresti con l'accusa di sequestro di persona L'uomo, responsabile in passato di comportamenti aggressivi Sarebbe stato raggiunto da un provvedimento di revoca della misura d'accoglienza Che a quanto pare non è stata da lui gradita Al punto da indurlo a creare un caos e uno scompiglio tale Da rendere necessario l'intervento dei carabinieri Solo dopo due ore, in cui il giovane è rimasto chiuso in una camera con il referente del centro d'accoglienza Gli uomini dell'arma sono riusciti a calmare la situazione Inducendolo a ragionare, evitando quindi che la situazione degenerasse Soprattutto a discapito dell'ostaggio Quindi dopo la lunga trattativa si è proceduto all'arresto E ora l'immigrato, in attesa dell'interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria Rischia il decreto di espulsione La questione immigrazione deve conoscere nuove politiche Soprattutto da parte dell'Unione Europea Il Molise da parte sua ha una presenza di rifugiati in percentuale sulla popolazione più alta in Italia E come si suol dire, cade a fagiolo Cade a fagiolo proprio la statistica uscita in queste ore Con la presenza sulla percentuale della popolazione degli immigrati sulle singole regioni Beh, a fronte di una media italiana dello 0,29% Il Molise vede una percentuale dell'1,04% La regione in pratica che ha dato più solidarietà e più accoglienza agli immigrati Le più vicine diciamo come seconde allo 0,42% Basilicata e Friuli-Venezia-Giulia È quello che è emerso in queste ore È chiaro che la solidarietà e l'accoglienza è giusto Ma è chiaro che diventa anche ora una questione e un problema Era stato l'europarlamentare molisano Aldo Patriciello in una recente intervista A dire credo che debba essere l'Europa a mettere in campo uno sforzo corale Per garantire la stabilità politica in paesi come la Libia Fare accordi con i paesi di origine dei migranti E creare lì le condizioni perché queste persone non siano costrette a partire E per questo concludeva l'onorevole Patriciello Servono progetti di cooperazione, stanziamento di risorse E anche incendivi ai nostri imprenditori ad investire lì Dunque la tabella è legata perché prima che diventi un problema La questione degli immigrati anche per la presenza elevata rispetto alla popolazione 1,04% è la regione Molise Lo vediamo in questa recente comparsa proprio ieri di questa statistica A fronte della media dello 0,29% in Italia Il Molise di accoglienza e di solidarietà ha dato il doppio, il triplo Anzi in questo caso della media nazionale Per l'accoglienza agli immigrati e ai rifugiati Chiaro che però ora una considerazione anche va fatta Visto che siamo la regione sempre più solidale Sempre la regione che accogliamo tutti a braccia aperta Qualcuno ora, ma senza voler fare alcunché di polemica Forse un po' di solidarietà e di aiuto da parte del governo nazionale In questo caso forse dovrebbe darlo anche al Molise Almeno in termini di infrastrutture E passiamo ora alla cronaca 70 grammi di hashish in stecche e 60 grammi di marijuana E la droga trovata dai carabinieri del comando di Termoli Nei pressi di un'abitazione privata di San Giacomo degli Schiavoni E a finire nei guai, due incensurati del luogo Che dopo essere stati trovati in possesso di alcune piantine Dello stupefacente poste sul sedile posteriore dell'auto su cui viaggiavano Hanno subito una perquisizione più approfondita Svoltasi nell'appartamento di entrambi Ed è proprio nell'abitazione di uno dei due che i militari hanno rinvenuto Oltre alla suddetta droga Anche una serra adibita alla coltivazione delle piante I due sono stati arrestati per detenzione e spaccio E scattano arresti, denunce e sequestri Da parte dei carabinieri del comando provinciale di Isernia Impegnati in controlli svolti in materia di sicurezza stradale Tutela dell'ambiente e del lavoro E' finito nei guai infatti un 45enne di Isernia Fermato e arrestato dai carabinieri di Montaquila Poiché sorpreso alla guida della propria auto con la patente sospesa E sotto influenza di sostanze stupefacenti In seguito poi a controlli eseguiti in diverse attività commerciali I carabinieri del nucleo operativo ispettorato del lavoro Hanno sequestrato circa una cinquantina di chilogrammi di prodotti in plastica Non conformi alla legge Messe in vendita in un esercizio commerciale gestito da un cittadino cinese Infine i carabinieri forestali hanno rinvenuto nei pressi del torrente Rava Un esemplare di tartaruga dalle guance rosse Originaria del sud degli Stati Uniti Aprendo ora le indagini per identificare la persona che deteneva l'esemplare Per poi abbandonarlo E da oggi scuole chiuse in Molise Attesa solo per quanti dovranno sostenere l'esame di maturità In aula, secondo il nuovo calendario, si tornerà il 12 settembre Oggi, venerdì 9 giugno, in tutta la regione Molise si chiudono le scuole Alvia quindi le vacanze estive per circa 40.000 studenti Ma non per tutti la scuola è davvero finita Infatti il 21 giugno inizieranno gli esami di maturità Con la prima prova di italiano uguale per tutti i maturandi In aula si tornerà il 12 settembre Secondo il calendario scolastico 2017-2018 Così come approvato dalla giunta regionale Le vacanze di Natale si avranno dal 23 dicembre al 5 gennaio Mentre quelle di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018 La campanella segnerà infine l'ultimo giorno di scuola il 9 giugno Sono previsti i ponti e altre chiusure il 2 novembre e il 9 dicembre Per il 2018 invece scuole chiuse con il ponte del 25 aprile Del 30 aprile e il primo maggio E il periodo a cavallo del 2 giugno Ora però i riflettori andranno ad accendersi Sul dimensionamento scolastico Che interesserà la discussione politica regionale Per il calo del numero degli studenti sul territorio E nello specifico nelle zone interne del Molise Situazione che mette a repentaglio L'autonomia di alcuni istituti scolastici E gli stessi posti di lavoro per il personale insegnante e ausiliario Una problematica che rischia di mettere a repentaglio L'impianto scolastico regionale E che meriterebbe un'attenta riflessione A più ampio raggio sulle cause dello spopolamento E il venir meno della popolazione giovanile E restando in tema protestano a Campobasso I genitori degli alunni di Contrada Mascione Perché l'edificio scolastico resta chiuso Dopo le verifiche strutturali I fondi Cipe inizialmente destinati Alla ricostruzione della scuola E previsti dalla precedente amministrazione Ora sono stati sostituiti dai fondi BEI Con un finanziamento rimodulato E l'incertezza nei tempi dell'erogazione La Contrada non ha più pazienza Hanno ribadito i genitori dei ragazzi Che per protesta hanno deciso Di restituire le schede elettorali In segno di sfiducia Nei confronti degli amministratori Di Palazzo San Giorgio Chiediamo al Presidente della Giunta E all'assessore Facciolla Di far continuare i progetti Rivolti alle persone con disabilità Lo affermano le famiglie Dei soggetti interessati Ripristinare all'80% Le risorse destinate Alle persone affette da disabilità Questa in sintesi La richiesta delle famiglie Con persone affette da disabilità Questa mattina La richiesta è stata portata Al Presidente della Giunta regionale Paolo Di Laura Frattura E all'assessore Vittorino Facciolla Così il Presidente del Comitato di Lotta Per la Difesa dei Disabili Franca Cianchetta Io non ho partecipato Per avere un'assistenza Quando siamo in due Siamo io e il padre Che ci occupiamo 24 su 24 di questo ragazzo Loro così facendo Hanno precluso E hanno messo da parte La nostra dignità di famiglia Perché hanno deciso Che noi non siamo adatti A sostenere questo ragazzo Perché se loro non ci hanno dato i fondi È come se noi siamo di serie B Non esistiamo Anche perché io voglio puntualizzare Io non sono contraria alle cooperative All'assistenza domiciliare Ma questo tipo di cose Vanno fatte a persone veramente allettate Ma il progetto è per la vita indipendente Questo ti dice che tu devi lavorare Per dare a tuo figlio un'autonomia E chi più della famiglia può dare un'autonomia? Io ho smesso anche di lavorare Sono 35 anni che lotto per mio figlio Casa mia è diventato un centro sociale E si fanno cine Per farlo stare bene Per avere un'autonomia rispetto agli altri Più serena E invece loro ti penalizzano Perché vogliono che tu chiami una persona Che ti viene a casa Ma per un'ora una persona Ma che cosa ti fa? E poi a 35 anni Un ragazzo si trova un estraneo dentro casa Che cosa, che cosa, che cosa, che ci facciamo noi di una persona? Intanto dopo la manifestazione Una delegazione è stata ricevuta Dalla vicepresidente della regione molise Vittorino Facciolla Nel corso della riunione Riferisce l'assessore Facciolla Abbiamo ricostruito il quadro normativo Che regola l'assegnazione delle risorse dell'FNA Entrando nel merito delle ragioni Che guidano la nostra programmazione regionale Anche per i cargyver Ossia per coloro che volontariamente Si prendono cura di persone care Non autosufficienti Con il presidente Frattura Prosegue Facciolla Piena volontà di costruire un percorso condiviso Che possa contemperare le necessità di tutti Sempre nel pieno rispetto della norma E della sostenibilità del nostro impegno E sono in totale 903 Le assunzioni in ambito sanitarie Previste dal programma 2017-2018 Annunciato dal presidente della regione Paolo Frattura Dopo dieci anni di blocco del turnover Causato dall'applicazione del piano di rientro Per il riequilibrio del deficit sanitario L'ASREM ha bandito le selezioni Il piano iniziato con la stabilizzazione La mobilità volontaria di 84 primari Prevede ora l'assunzione di 12 medici Per i quali l'ASREM ha già pubblicato i bandi di concorso Il prossimo passo riguarda ben 280 infermieri Di cui 140 in attesa di stabilizzazione I 140 posti da infermiere rimanenti Saranno invece coperti con la mobilità volontaria E con i concorsi E in base a quanto dichiarato dal governatore A breve saranno pubblicati gli avvisi Strade sporche e vegetazione incolta A Disernia le lamentele dei residenti Del popoloso quartiere di San Lazzaro Noi siamo andati a verificare Ascoltiamo Siamo a Disernia nel quartiere popolare di San Lazzaro Qui alcuni residenti segnalano una situazione di incuria Bottiglie e piatti di plastica Scatole di cartone, buste, lattine ed altro ciarpame Sono il per così dire decoro Di alcuni marciapiedi a ridosso delle palazzine In alcuni punti la vegetazione a bordo strada Invade parte della carreggiata Creando quindi un potenziale pericolo per i passanti Le lamentele riconducibili Secondo quanto riferitoci Ad un insufficiente servizio pubblico di pulizia A cui si aggiunge però E questo va sottolineato La discutibile educazione di taluni residenti In diversi ci hanno detto queste cose A telecamere spente Poca però la voglia di parlare Davanti ad un microfono C'è sporcizia in curia Nel quartiere San Lazzaro di Sernia? Tantissima E da tantissimo tempo Non è una questione di qualche anno Da sempre Siamo stati abbandonati totalmente Bisattenzione totale Che c'è da parte di tutti gli enti pubblici Qui queste piante qua non sono alberi Sono siepe Però sono rimasti così Se mi seguo e le faccio vedere Questo marciapiede dovrebbe essere usato Sia dai piedoni Dalle mamme Con le carrozzine e tutto L'abbiamo pulito noi Se scende le faccio vedere cosa c'è giù Non puliscono Non spazzano Lo facciamo noi finché possiamo Ma c'è un'incuria totale Una giusta informazione di ciò che si mangia È necessaria per tutelare il consumatore E la sua salute Questo è quanto emerso in un incontro Questa mattina a Campobasso Da oltre vent'anni La Feder Consumatori opera sul territorio In tema di sicurezza alimentare È aperto in questo modo Michele Scherino Presidente regionale Feder Consumatori Molise Il convegno organizzato in collaborazione Con Feder Consumatori Liguria CIA Molise E CGL Molise Al centro dell'incontro Il tema attuale più che mai Dello spreco alimentare Stare molto attenti allo spreco alimentare In particolare nelle famiglie Quando si va a fare la spesa Comprare il necessario Attenzione all'etichettatura Le scadenze Quando si mette in frigo Che si porta la spesa a casa Controllare nel frigo Se c'è già rimanenza Metterla avanti Fare in modo di fare una spesa più concreta Ed evitare di buttare Perché oggi come oggi Molti cibi che si buttano Che è quasi il 30% Sono recuperabili Come il pane Come l'olio Come la frutta Si può fare tante altre cose E allora cerchiamo di fare questo A dare il proprio contributo C'era il Presidente nazionale Di Feder Consumatori Rosario Trefiletti Che ha fatto della situazione Attuale Un'attenta analisi A livello nazionale Si tratta di fare Una politica di investimenti Assai rilevante ed importante Come per esempio L'infrastrutturazione Al sud Che potrebbe dare risposte Importanti in tema occupazionale Per quanto riguarda il turismo Il Made in Italy Insisto Su prodotti specifici Del territorio Ma poi Quando uno come me Si trova A dover affrontare Un viaggio Da Roma A Campobasso Con i treni Che sembrerebbero Treni Credo del 1620 1625 Mi sembra Che questo È insita la risposta A cosa si deve dare Quindi infrastrutturazione Investimenti Bonifiche del territorio E soprattutto Intelligenza E creatività Per i prodotti Di trasformazione Che possono essere importanti A livello nazionale Sicuramente Ma anche A livello regionale Insisto Il Molise Potrebbe essere Veramente Una regione Importante Per alcune trasformazioni Di produzioni Di montagna E che ha E altro ancora Ecco Ci vuole però La volontà politica È finita Contro una gazzella Dei carabinieri La corsa del veicolo Che ieri sera Percorrendo La statale Venafrana Nei pressi Del bivio Di San D'Agapito Ha sbandato Forse a causa Dell'alta velocità Per finire Prima in una conetta E poi travolgere L'auto Della pattuglia Presente sul luogo Per i normali Servizi di controllo Per fortuna Solo tanto sfavento Ma nessuna grave Conseguenza Per i giovani Occupanti dell'auto Che trasportati Alla pronto soccorso Del veneziale Se la sono cavata Solo con qualche ferita Provincia di Isernia Ha approvato Il bilancio Consuntivo Ha testato Un avanzo Di gestione Di circa 350 mila euro Resta però Aperta la questione Dei 2 milioni e mezzo Che mancano Per la chiusura Del bilancio Di previsione 2017 Ascoltiamo Ieri Un passaggio Importante In provincia Di Isernia Ha approvato Il rendiconto Da cui emerge Un avanzo Di amministrazione Pari a 350 mila euro Ma i problemi Rimangono Perché mancano ancora Circa 2 milioni di euro Per chiudere il bilancio Di previsione Un commento L'avanzo di amministrazione Di 350 mila euro Sul conto 2016 È il frutto Di un lavoro Certosino E attento Di lotta Gli sprechi Che ha fatto Questa amministrazione Nel corso Di questi 2-3 anni Di amministrazione Ovviamente Il problema Si pone Per il bilancio 2017 In cui mancano Circa 2 milioni e mezzo Di euro Per poter Chiudere il bilancio Preventivo A causa Dei prelevi forzosi Che fa lo Stato Il governo centrale E che non trasferisce Poi agli enti Provincia Ecco Nel dettaglio Ieri c'è stato Qualche problema Sul numero legale Come è andata? No In realtà Problemi Non ce ne sono stati Perché quando è stato Fatto l'appello Dal segretario generale Della provincia Il numero legale c'era Eravamo presenti 5 consiglieri Di maggioranza Più il presidente Ed eravamo 6 Quindi il 50% Più 1 Non c'era la miglioranza Che nel frattempo Si era allontanata Però il numero legale Non è stato Pregiudicato in nessun modo C'è ottima collaborazione Con la miglioranza Negli ultimi due consigli Il numero legale È stato assicurato da loro Due nostri consiglieri Mancavano Perché erano fuori Per impegni Loro sono rimasti Al loro posto Hanno assicurato Il numero legale Hanno votato anche Provedimenti Abbiamo in più occasioni Accolto Accolto delle loro istanze Delle loro proposte E votate in consiglio Tranquillamente Ad unanimità Quindi il rapporto Al momento è ottimo E speriamo E ospichiamo Che rimanga così Fino alla fine Perché in questo modo Si può lavorare bene Serenamente E in maniera costruttiva In altri modi Forse un po' di meno E dal 15 al 18 giugno 2017 In occasione Degli eventi organizzati Dall'amministrazione comunale Di Campobasso Per il Corpus Domini Sarà vietata La vendita di bibite In bottiglie di vetro E in lattine Una decisione Fa sapere Palazzo San Giorgio In una nota Che garantisce Alla popolazione Livelli più alti Di sicurezza Un lavoro importante Ma spesso sottaciuto Quello dei volontari Del comitato festa San Nicandro A Venafro Accendiamo i riflettori Sul loro fondamentale contributo All'organizzazione Dei festeggiamenti Vediamo Ci siamo quasi A Venafro Solo pochi giorni Alla festa di San Nicandro Un appuntamento Assai sentito E per questo atteso In città Solo che In molti Danno quasi per scontata La questione riguardante L'aspetto organizzativo Dei festeggiamenti In realtà Senza l'apporto Volontario Dei ragazzi Del comitato festa Non ci sarebbe Neppure la festa Il riferimento Ovviamente È alla parte relativa Agli spettacoli E alle diverse manifestazioni In cartellone Dunque Giusto Crediamo Accendere i riflettori Sulle persone Che rendono possibile Tutto questo Ogni sera Usciamo A squadre Pieni di Voglia di fare Pieni di entusiasmo Perché ci teniamo Ci teniamo I nostri martiri Ci teniamo A far sì Che venga fatta Una festa Che piaccia a tutti Perché poi La soddisfazione È proprio lì Togliamo molto tempo Alle nostre famiglie I nostri impegni Però ogni anno Si fa con uno spirito Buono Una voglia di fare Non è facile Perché andiamo Nelle case Delle persone Che magari Soffrono questa crisi Economica E anche nelle attività Però tutti quanti Sembra che ci aspettano Ci aspettano Per dare un loro contributo E si offendono pure Se magari Non riusciamo a trovarli Quindi passiamo Un mese e mezzo Due Ad uscire tutte le sere E ad invogliare la gente A darci questo contributo E con questo Ringrazio anche Tutti i miei Compaesani Che mi rendono Soddisfatta Che mi fanno Venire voglia Ogni anno Di continuare E noi abbiamo Detto proprio A riunione Con tutti i ragazzi Che stanno girando Nel comitato Due cose importanti Che secondo me Sono essenziali Una Che le famiglie Venafrane Più si va avanti E meno sono Quindi meno attaccamento Alla festa di San Nicanto E due La crisi che comunque Si fa sentire Quindi sicuramente Anche quest'anno Avremo difficoltà Come l'anno scorso D'altronde Sulla raccolta fondi Ma Devo dire che Tutto sommato I venafrani Rispondono Perché poi Alla festa di San Nicanto Comunque è una festa Dove i venafrani Vogliono far sentire Il proprio apporto Dare il proprio contributo Quest'anno La festa Si allungherà Di un giorno Perché La processione Del rientro Delle nostre statue Sarà il 19 Giugno E non il 18 Perché il 18 C'è il corpus domini E nessuna altra processione Si può fare E ora parliamo Di salute In particolare Di una patologia Soggetta spesso A disinformazione Sia sulle modalità Di trattamento Farmacologico Che chirurgico È un approfondimento Multidisciplinare È stato promosso Proprio nell'IRS Neuromed Di Pozzilli Vediamo La stenosi Del canale lombare È una delle patologie Degenerative Della colonna vertebrale Più frequenti Nella popolazione Soprattutto anziana Si tratta Di una riduzione Del diametro Del canale vertebrale Che determina Uno schiacciamento Con conseguente Sofferenza Del midollo spinale Stesso E delle radici nervose Una patologia Che è anche Soggetta A disinformazione Sulle modalità Di trattamento Farmacologico Abuso di farmaci Antidolorifici E chirurgico Tecniche Operatorie Inappropriate Al fine di approfondire In maniera multidisciplinare Il tema L'IRS Neuromed Ha promosso Un convegno ECM Curato dal dottor Gualtiero Innocenzi Responsabile Dell'unità di neurochirurgia Uno Dell'IRS Neuromed Approfondiamo dunque Gli aspetti più importanti Della patologia Con lo specialista Il fattore di rischio Principale È l'età Perché l'incidenza Della malattia Aumenta Col passare degli anni La classe di età Che è colpita Più spesso È quella sopra I 70 anni E in generale Si tratta di una patologia Che pur non essendo grave Nel senso che Non mette a rischio La vita ovviamente È particolarmente importante Sul piano funzionale Perché progressivamente Limita l'autonomia Nella marcia In particolare Nei pazienti colpiti Quando è necessario L'intervento chirurgico E quali sono i sintomi Che magari le persone Devono tenere ben presente I sintomi sono soprattutto Rappresentati da dolori Formicoli Sensazioni di addormentamento A carico degli arti inferiori Che aumentano Stando in piedi E camminando E si attenuano Stando seduti Piegandosi in avanti O stando sdraiati Mettendosi a riposo Generalmente Noi consigliamo L'intervento Quando c'è Una stenosi Rilevata Con una tacca O meglio Con una risonanza E quando A questo quadro Di riduzione Del calibro Dell'allarchezza Del canale Si associa Una riduzione Dell'autonomia Della marcia Per cui il paziente Ti racconta Ad esempio Prima Potevo camminare Due o tre chilometri Di seguito Adesso posso fare Al massimo Qualche centinaio Di metri E poi mi devo fermare Lei oggi Ha parlato anche Di nuovi approcci Soprattutto diagnostici Quali sono? Beh anzitutto La risonanza Poi ci sono Degli studi Di imaging Sempre Di risonanza Che Ci consentono Di vedere Le variazioni Del canale Sia normale Che patologico Stando in piedi Stando seduti Perché Le dimensioni Del canale Cambiano Con la posizione Del paziente Il canale Si allarga Quando ci pieghiamo In avanti Si riduce Quando siamo In estensione E poi La neurofisiologia L'elettromiografia Ma non solo Ci può dare Spunti interessanti Anche sul piano Della prognosi Cioè di quelli Che possono essere I risultati attesi Dopo l'intervento Successo pieno Per il premio Fasolino Che quest'anno È arrivato Alla sua quinta edizione La premiazione Degli elaborati E degli scatti fotografici Si è svolta Al CONI Di Campobasso Vediamo Quinta edizione Del premio Fasolino Quest'anno Anche la prima edizione Del concorso Fotografico Professor Aldo Barletta Lei presiede La giuria Che è formata Da esperti Del giornalismo Del mondo Dello sport Quali sono state Le novità Di quest'anno Novità Sono state Le fotografie Una novità Piacevole Voglio dire Che coinvolge Anche visivamente L'esperienza Di questi utenti Così particolari Il fatto di essere Per cinque anni Il presidente Di questo percorso Che non è solo Culturale Soprattutto emozionale Coinvolgente In alcuni momenti Questi concorrenti Sono carezzevoli Scrivono poco Scrivono a volte Anche un po' male Naturalmente Perché non sono poete Nei giornalisti Ci provano Ma la cosa Che viene meglio A queste persone Da quando Cioè dai partecipanti Quella più piccola Quella più grande È la volontà Proprio precisa Di trasferire Nel lettore Quella loro esperienza Di vita Presidente Tra l'altro Il concorso Ha visto concorrenti Davvero Di tutte Le età Possiamo dire Che le generazioni Si uniscono Per Per raccontarsi Sia attraverso Gli scritti Che attraverso Degli scatti Fotografici Ma le generazioni Sempre In ogni epoca Hanno sempre Trovato Dei trade union No Non sempre Nello sport A volte costretti Da eventi Che rimangono Poi nella storia Ma questa volontà Di amalgamarsi Di continuarsi Di trovare Le radici Insomma C'è sempre stata E dopo Quest'ultimo servizio Diamo spazio Alle previsioni Del tempo Previsioni per oggi Venerdì 9 giugno Giornata molto gradevole Sulla nostra regione Grazie all'alta pressione Che garantisce Una fase stabile Su tutti i settori Cielo quindi In prevalenza Sereno O poco nuvoloso Salvo qualche Cumulo di urno Sulla dorsale appenninica Le temperature Sono pienamente estive Con massime prossime Ai 28-30 gradi Ma vediamole nel dettaglio Campobasso Massima 24 Minima 14 Isernia Massima 27 Minima 13 Termoli Massima 23 Minima 17 Venafro Massima 28 Minima 16 L'alta pressione Proteggerà la regione Anche nella giornata Di domani Che nel complesso Sarà stabile Anche se disturbata Dalla transito Di velature O stratificazioni Da nord a sud Le temperature Saranno in generale Aumento Con estremi di venti E punte Di 32 gradi L'edizione delle 14 Termina qui La prossima Vi aspetta questa sera Alle 19.30 Grazie per averci seguito Arrivederci Sous-titrage Société Radio-Canada